E fare una buona tappa 5, 4, 3, 2, 1, 1 Sinistra 3, 80 In destra 1, gridale In sinistra 2, in sinistra 1 Destra 3 In destra 5, 60 Sinistra 6, sul gridale destra 4 sinistra 6, 40 destra 3 in abbattamento sinistra 6 sul crinale destra 1 in abbattamento e sinistra 4 sinistra 5 e sinistra 3 destra 1 e destra 2 e sinistra 1, 60 sinistra 4 in abbattamento e tieni la destra sul crinale sinistra 3, 60 destra 6, sudosso, 80 sinistra 5, sudosso, 60 destra 6, 80 destra 4, lunga e tornante aperto, sinistra sinistra 4 sul crinale e tornante destra e sinistra 3 sul crinale destra 6 sinistra 4 sul crinale 80, destra 1 in destra 2 e sinistra 4 destra 4 e sinistra 1 in abbattamento destra 6 sul crinale sinistra 3 in abbattamento 40 crinale destra 6 destra 1 e sinistra 3, lunga, apre, stringe e destra 3 destra 2, inna, tornante aperto sinistra 1, 60 destra 6, 100 destra 6 sinistra 6 e tornante destra e sinistra 3 sinistra 3 sul crinale in destra 4 in abbattamento sinistra 3, lunga, apre destra 6, 60 sinistra 5 destra 5 sinistra 5 sinistra 3 e destra 3, lunga, apre, stringe sinistra 1 sinistra 6 sul crinale destra 4, 80 sinistra 3, lunga, e tornante aperto sinistra sinistra 4 sul crinale e tornante destra e sinistra 3 sul crinale destra 6 sinistra 4 e sinistra 1 in abbattamento destra 6 sul crinale sinistra 3 in abbattamento 40 crinale destra 6 sinistra 4 sul crinale 80, altra 4 tralenta verso il commissario ottimo tempo era imbattibile